...di due diversi contest, uno che prevedeva... Be Responsible, un progetto per informare, formare e prevenire gli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga, promosso dal Comune di Pesaro e da Prefettura, Questura, Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Università di Urbino e dal Comitato di Pesaro della Croce Rossa Italiana, premia studenti e scuole, del suo contest creativo. Questo è un progetto di cui per anni, in questi ultimi anni, si è parlato poco, ma in realtà oltre che essere molto attuale è un progetto importante che deve coinvolgere le giovani generazioni e da lì aumentare quel tipo di sensibilità che è proprio in quella fase di formazione e di crescita importante ed è per questo che siamo partiti proprio dai ragazzi delle scuole e poi anche dell'università, ma che in realtà si rivolge a tutti. È un tema di cui per tanti anni si è parlato, ma serve sempre mantenere l'attenzione alta senza dimenticare appunto che la sensibilità rispetto a queste tematiche è comunque un lavoro che va fatto quotidianamente e che vede questa volta l'amministrazione locale in prima linea. Il concorso, chiuso il 25 maggio, si è rivolto ai giovani tra i 14 e i 18 anni della provincia, a cui è stato chiesto di elaborare uno storyboard di un video e la grafica di un murales in linea con il tema del progetto. Ad aggiudicarsi il premio in paglio per il miglior storytelling è stato il duo composto dai fratelli Riccardo Scaloni del liceo scientifico Marconi e Leonardo Scaloni del liceo artistico Mengaroni. Entrambi riceveranno un buono da 500 euro spendibile per una patente di guida. Come nasce la vostra idea? Allora, la nostra idea nasce dalle fondamenta per la nostra passione sia mia che di mio fratello verso il mondo del cinema e del teatro e quindi abbiamo visto subito in questa occasione un'opportunità nel mettersi in gioco. Abbiamo voluto attuare per questa tematica particolare il non esplicito, nel senso leggendo e vedendo nel nostro storyboard la storia che abbiamo voluto rappresentare non c'è in maniera esplicita l'incidente, ciò che succede, ma evidenziamo il 360 gradi attorno al fatto, ovvero tutte le reazioni e le situazioni che si potrebbero andare a creare a seguito dell'incidente, dell'accaduto. Quindi una cosa che potrebbe sembrare individuale, quindi una cosa che poi va a ledere se stessi in realtà è una cosa che lede tutte le persone che ti vogliono bene e che ti stanno accanto. E di Leonardo Scaloni anche il miglior progetto di street art. Ho voluto realizzare nel murales, ci ho voluto inserire molti simboli più che altro e ho appunto inserito tantissimi simboli come ad esempio una macchina ribaltata che è proprio la fine che si può fare anche semplicemente con qualche bicchiere in più, oppure in un laghetto di sangue, il divino che poi simboleggia anche il sangue, ci ho inserito anche una paperella gialla che è un po' il simbolo dell'infanzia, quindi anche di quelle persone che magari ci rimangono coinvolte in queste tragedie anche se poi in realtà non ne fanno parte, non c'entrano nulla e non hanno colpe.